Ciao a tutti, volevo dirvi che sabato 27 marzo alle 15 alle 3 di pomeriggio, quindi dopo pranzo, non mangiate troppo pesante, faccio un seminario sui modi, il sistema modale, uno degli argomenti così sempre molto molto discussi e molto poco compresi a quello che ho visto. Cercherò di spiegarlo alla mia maniera, quindi magari anche un po' cazzeggiando, ma comunque al di là di questo sarà una cosa piuttosto seria, cioè il link è qua sotto, sarà più seria, questa volta sì.